Sindaco, quanto è importante un evento del genere per il comune di Agerola? Un evento del genere è importante perché crea un'occasione di aggregazione, di condivisione rispetto ad una passione che anima centinaia di persone, non solo aggerolesi, persone che vengono dalla realtà regionale, che hanno accolto l'invito della Scuderia Vesuvio e di tutta l'organizzazione che ha ritenuto opportuno dare ad Agerola un momento di sport e di passione sportiva. Confidiamo nella clemenza del meteo perché abbiamo una giornata intera dove i colori delle auto, nel rispetto della sicurezza stradale, saranno accolti dall'ospitalità e dall'accoglienza della comunità aggerolese. Siamo ulteriormente orgogliosi perché ospitiamo questo raduno all'interno della nostra rassegna del Festival Agerola sui Sentieri degli Dei che quest'anno ha raggiunto l'undicesima edizione. Il raduno di oggi si inserisce perfettamente all'interno di questa vocazione, all'interno della finalità e ci permette di caratterizzare con un contenuto proprio sportivo la finalità del festival così come ce la siamo immaginata quest'anno e così come ce l'avevamo immaginata undici anni fa. Sarà un momento di puro divertimento, tantissime persone stanno arrivando sul piazzale Principe di Piemonte qui ad Agerola. Noi da parte nostra daremo tutta l'ospitalità e tutta l'accoglienza che Agerola ha già dimostrato di saper dare.